Studi al liceo, quindi sei giovanissima. Che tipo di argomenti ti sono sembrati questi? Concreti, un po' astratti? Sì, mi sono sembrati degli argomenti piuttosto concreti. La cosa che mi ha colpito di più è l'approccio della comunicazione a questi avvenimenti che ci sono stati, ad esempio a Parigi. E non lo so, proprio parlare con la presa in testa della RAI, quando lei ha parlato, proprio ha fatto vedere quanto la comunicazione sia fondamentale a esprimere un certo messaggio. Se questo messaggio è di rifondere il terrore, è una cosa negativa. Se però il messaggio è positivo, in cui si valorizzano le diversità, secondo me è molto importante. Magari ne parlerai ai tuoi compagni di classe? Sì, sì, penso proprio di sì. Grazie.